Quindi abbiamo parlato all'escursione ai Colli dove abbiamo incontrato via Antonino Aversa che sta la vecchia via Scaricatori, poi conoscete via Vincenzo Iaccarini, Cautel, via Michele Paturzo. Ci sono tante strade dedicate a persone che erano persone morte nella prima guerra mondiale. Il comune di Piano decide di dedicare le strade caduti della prima guerra mondiale ma pure lì c'è la diatriba di quale strada dedicare. La famiglia grossa è importante se piglia la via principale, se piglia un beneficio, se piglia queste e chi non ha più a costi di buttarlo in via Vicaria. Però i nomi quando trovate via Salvatore d'Esposito, le botteghelle giù che sta via Trinità, la via Sparicatori, sono strade minori dedicate comunque a caduti della prima guerra mondiale.